ignazio moser dopo la fine dell'isola dei famosi torna in italia con cecilia rodriguez il mud isolano li spinge a fare un gesto proibito si è conclusa pochi giorni fa l'esperienza di ignazio moser all'isola dei famosi nel corso dell'ultima puntata andata in onda lunedì 7 giungo 2021 cecilia rodriguez gli ha fatto una bellissima sorpresa l'incantevole modella argentina è sbarcata in honduras quando i due si sono rivisti e si sono riabbracciati dopo settimane di lontananza hanno emozionato tutti lei lo ha raggiunto sull'isola per tornare insieme in italia con loro ci sono anche altri ex concorrenti della quindicesima edizione del reality nelle scorse ore ignazio moser ha postato una foto sul suo profilo instagram dove mostra un gesto proibito durante il rientro in italia con la fidanzata nello scatto non solo da soli ignazio moser e cecilia rodriguez nello scatto sono insieme ad andrea cerioli arianna cirrincione od e suo fratello l'ex naufrago nella didascalia del post fa sapere che si tratta del momento più alto dell'isola dei famosi 2021 moser con ironia ha anche invitato i suoi tantissimi follower a notare l'accanimento al mudisolano che li ha spinti a mangiare sul pulitissimo pavimento dell'aeroporto di città del messico un gesto proibito che in altre circostanze probabilmente non avrebbero fatto come ogni anno i naufraghi hanno affrontato settimane difficili in honduras era scarso il cibo che avevano a disposizione ed è per questo che sono molto dimagriti finito il reality ci vorrà un po per tornare alla normalità e rimettersi in forma ma sono tutti felici dell'esperienza incredibile che hanno vissuto grazie a tutti grazie a tutti